Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Quella che ti ho appena letto è una citazione che mi accompagna da tutta la vita e mi serve per introdurre il settimo e ultimo ingrediente alla ricetta del successo di Ristoratore Top. Per questa puntata mi sono armato di un po' di filosofia, di tanto pragmatismo e anche di un pizzico di follia. Vediamolo insieme. Ciao, benvenuta e benvenuto in Radio Ristorazione, il podcast di Ristoratore Top dedicato al mondo della ristorazione. Io, come al solito, sono Lorenzo Ferrari. Se hai dato un'occhiata al nostro sito web oppure ai nostri social, ti sarai sicuramente imbattuto nell'immagine che rappresenta il nostro sistema nella sua interezza. Il sistema Ristoratore Top è rappresentato da sempre da due torri. Sì, due torri, proprio come quelle di un castello. La prima, quella di sinistra, ha cinque passaggi al suo interno, mentre quella di destra ne ha due. Abbiamo sempre chiamato quella di sinistra la torre marketing, mentre quella di destra la torre vendita. Le due torri hanno due scopi differenti e servono agli imprenditori nel campo della ristorazione per prendere delle decisioni ponderate e giuste in ogni passaggio che riguarda la loro attività. Probabilmente avrai notato come il primo gradino della torre di sinistra, quella marketing, sia sempre solo l'identità differenziante. Quindi ti sarà venuto naturale pensare che il primo step dal quale partire, sempre e comunque, fosse quello dell'identità differenziante. Identità differenziante della quale ti ho parlato già in questo podcast introducendoti il primo ingrediente della ricetta del successo di Ristoratore Top. Per prima cosa, infatti, occorre capire chi sei, cosa fai, perché i tuoi clienti ti scelgono e perché, appunto, decidono di scegliere proprio te rispetto a tutti gli altri ristoranti presenti sul mercato. Senza quelle informazioni ogni strategia è inutile, giusto? Non so, sbagliato. O meglio, è sicuramente fondamentale lavorare sulla propria identità differenziante ed è sicuramente uno dei primi passaggi da fare, ma non è certamente il primo. Infatti, c'è un importantissimo, necessario e critico passaggio da fare prima di pensare alla tua identità differenziante, prima di pensare a chi sei, prima di pensare a che cosa vuoi comunicare, prima ancora di pensare a chi vuoi comunicarlo. Prima dell'identità differenziante, prima di qualsiasi altro ingrediente della ricetta del successo di Ristoratore Top, c'è un'altra cosa. Prima di tutto, c'è la direzione. La direzione è il settimo ingrediente della ricetta del successo di Ristoratore Top. Se lo chiedi a me, è anche il più importante. Non è detto che sia il più importante per te, ma io non ho alcun dubbio. Se la strategia di marketing fosse una scacchiera, la direzione sarebbe il re e la regina fusi in un unico pezzo. Alcuni chiamano direzione mission, altri vision, altri obiettivo di lungo periodo. Il mio consiglio è quello di non perderti nelle definizioni e nei tecnicismi e di utilizzare il termine direzione perché secondo me è il termine migliore che esista per rappresentare il concetto che tra poco ti racconterò. Semplicemente devi essere consapevole che così come non c'è alcun vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, così non esiste alcun sistema o azione di marketing che possano aiutare il ristoratore che non sa dove sta andando. Infatti la definizione che diamo di direzione all'interno del nostro sistema ristoratore top è la semplicissima risposta alla domanda dove sto andando. La direzione è il solco che hai tracciato sul terreno e che ti appresti a percorrere. Se il solco non è il tuo, perché magari è quello tracciato da qualcun altro, magari è venuto prima di te, perché magari è un tuo genitore, un tuo parente, il precedente proprietario dell'attività, la società stessa, o magari qualche guru particolarmente aggressivo o presente su internet, il mio consiglio è quello di fermarti, quello di fare un grosso respirone e ripensarla da capo. Ripensa da capo la tua direzione, davvero, pallo per te. La direzione è come un abito su misura, non puoi indossare quello di qualcun altro. Io sono un appassionato di sartoria, mi piace vestirmi dal sarto e so benissimo che quando un abito non è costruito sulle mie misure mi starà sempre scomodo, impedirà i movimenti fondamentali e in generale non mi farà apparire esattamente come mi immagino. La direzione deve essere la tua seconda pelle. Devi starci comodo, devi sentirti a tuo agio al suo interno e deve permetterti i movimenti a cui sei abituato. Non devi sentirti costretto, non devi sentirti nei panni di qualcun altro. La direzione è importantissima. Non tanto nel breve termine, quanto nel medio-lungo. Prova a immaginarla così. Immagina il tuo ristorante come se fosse una nave che deve portarti a destinazione in un luogo esotico e lontano. La prima cosa che dovresti fare, prima ancora di pensare di partire per questo lungo viaggio, è impostare la tua direzione. La traccia di dove vuoi andare. Puoi pensare alla tua direzione come a una stella polare. È un punto fermo, nel cielo certo, ma anche e soprattutto nella tua anima, che ti consente di capire se per ogni decisione che stai prendendo è quella giusta o quella sbagliata, per te e non per qualcun altro, per te. Se durante il viaggio ci troverai a guardare altre stelle che non siano la tua stella polare, non arriverai a destinazione. Sbaglierai il tragitto e non ci saranno mappe o cartine geografiche che ti aiuteranno, perché sarai sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Comunque sia, se ti perdi, ed è normale perdersi, è normale abbandonare ogni tanto la retta via, è normale che accada questa cosa, puoi comunque sempre ritrovare il percorso ricominciando a guardare la tua stella polare, quindi ricominciando a percorrere il sentiero tracciato da quella che è stata la tua direzione. La direzione esula da ogni aspetto economico, finanziario e di business. Certo, la direzione deve tenerne conto, perché le aziende devono fare soldi e devono permetterti di farne tanti. Ma la direzione riguarda a te come individuo, riguarda a te come persona, riguarda a te come essere umano. La direzione ha a che fare con ciò che ti rende felice, appagato, soddisfatto. Sai di stare seguendo la tua direzione quando ti svegli al mattino e sei contento di scendere dal letto e sei contento di fare ciò che stai facendo. Io ho avuto una fortuna sfacciata. Mi sono svegliato una mattina di dieci anni fa e di anni ne avevo ventidue. Sono nato dal commercialista e ho aperto la mia prima partita IVA perché sapevo già che cosa avrei voluto fare da grande. Io volevo fare marketing per la ristorazione. Mi sono svegliato una mattina di dieci anni fa e di anni ne avevo ventidue. Mi sono disiscritto dall'università. Mi manca un esame per laurearmi in ingegneria dei materiali. Avevo già scritto la tesi. Eppure ho deciso di andare dal commercialista e di aprire la mia partita IVA perché sapevo già qual era la mia direzione. Io semplicemente lo sentivo. Sapevo che la grande avrei voluto fare quello e l'ho sempre saputo. Oggi mi guardo indietro e ringrazio il Lorenzo del passato per aver fatto quella scelta quasi folle. Potrei immaginare quanto era contento mio papà della decisione presa di mollare un'università a un esame dalla fine con la tesi già scritta. Eppure ogni giorno ringrazio il Lorenzo del passato per aver preso quella decisione e per non averla mai tradita. Nemmeno un minuto, nemmeno un'ora, nemmeno un giorno della sua vita adulta. E sinceramente se mi guardo indietro non riesco davvero a intravedere un altro ruolo, un altro posto e un altro luogo dove vorrei o dove potrei essere. Sento di essere nato per fare questo. Non perché me l'ha imposto una qualche divinità celeste ma per il semplice fatto che la mia personalità, la mia persona, vuole che io faccia questo. E sono contento di farlo. Credimi, non è soltanto una questione di soldi. Se fossi attaccato ai soldi, che comunque sono molto importanti e che comunque fortunatamente il ristoratore top e le varie aziende mi permettono di fare, se fossi soltanto attaccato ai soldi credimi non farei questo mestiere, farei qualcos'altro. Lavorerei in mercati sicuramente più ricchi e sicuramente più floridi e sicuramente meno attaccabili da cause esterne come quella della ristorazione. Tuttavia, anche se non ci fossero i soldi, io certamente non riuscirei a fare ciò che faccio con la stessa intensità e con la stessa passione. Ma la realtà è che quello che mi spinge a lavorare nel mondo della ristorazione è appunto la mia semplicissima direzione personale. Lavorare in questo mondo mi dà gioia, mi fa sì che io possa fare ciò che mi piace e in generale mi fa battere il cuore. Per questo consiglio anche a te di prendere le stesse decisioni di lavorare nella ristorazione solo e se ti fa piacere lavorarci in questo settore e ti piace in qualche modo ti fa battere il cuore anche a te. La direzione è una decisione personale, intima e introspettiva. Noi di Ristoratore Top possiamo aiutarti ad esempio nel trovare la tua identità differenziante o trovare l'identità differenziante del tuo locale. Possiamo aiutarti nell'acquisire e nel fidelizzare clienti siamo bravi nel riempirti locale. Possiamo fornirti gli strumenti e le consulenze giuste per avere successo. Per riempire appunto il tuo locale e per renderti un imprenditore e forse se siamo bravi anche una persona migliore. Ma la cosa che sicuramente non possiamo aiutarti a fare è nel trovare la tua direzione. A quella devi pensare te e diffida da chi all'esterno di te ti dice quale direzione svolgere o ti dice che direzione dovrebbe seguire un qualsiasi imprenditore nel campo della ristorazione. La direzione è personale è intima e introspettiva. In questa scelta sei solo o sei sola? Sei tu e te stesso. Sei tu e te stessa. Puoi convolgere magari qualche socio qualche familiare qualche parente ma io ti consiglio di effettuare questa scelta da solo e da sola e solo dopo confrontarti con eventuali soci o socie. Voglio fornirti alcuni esempi di direzione per aiutarti nella scelta che anche tu puoi compiere. Un esempio di direzione potrebbe essere voglio aprire 5 punti vendita in 3 anni. È un obiettivo molto concreto molto definito che ti permette appunto di avere una stella polare ti permette di avere un obiettivo oppure potresti voler dire voglio che il mio locale diventi il punto di riferimento in città nel corso di 10 anni. Potresti anche dire voglio fare qualità costi quel che costi. Ci sono imprenditori che non guardano in faccia a nessuno loro vogliono semplicemente fare qualità perché la loro passione è la cucina la loro passione è il prodotto la loro passione è muovere le mani e quello da grandi vogliono fare. Io non ho potere alcuno per dire che questa direzione non sia corretta o non sia giusta anzi se decidi di percorrere questa strada auguri e tanta fortuna però nel mentre sappi che comunque la tua azienda dovrà produrre utili dovrà produrre cassa dovrà produrre fatturati perché senza di quelli non puoi stare in piedi. Se nel mentre però vuoi fare qualità costi quel che costi questa è una direzione che vale la pena essere perseguita. Oppure come tanti potresti dire voglio creare un locale che funziona senza la mia presenza per dedicarmi alla mia famiglia e ai miei figli. Chi lavora nella ristorazione spesso si dimentica dei familiari e dei figli spesso si dimentica che il tempo è un costo e che il tempo è un valore forse il più alto che c'è e spesso e volentieri si dedica troppo tempo all'azienda e poco alla famiglia e poco appunto ai figli o alle figlie. Questo ovviamente è sbagliato e se la tua direzione è quella di renderti indipendente dal tuo locale per avere più tempo da passare in famiglia beh questa è una cosa che ti fa davvero tanto onore. Oppure potresti dire voglio lavorare tranquillo nel mio locale senza dipendere da nessuno. Potresti dire voglio godermi il viaggio perché sto facendo quel che mi piace. Potresti dire voglio diventare famoso come imprenditore nel campo della ristorazione. C'è anche chi vuole fare questo. Oppure come ho sentito un imprenditore poco tempo fa che mi confrontavo con lui e la sua direzione dicendomela in maniera molto spenserata mi diceva Lorenzo io voglio aprire 5 giorni su 7 voglio riempire su due turni sia a pranzo che a cena e nel resto del tempo voglio viaggiare e godermi la vita. Bellissima nel senso è una direzione alla quale io non ho nulla davvero da aggiungere. Oppure potresti dire voglio semplicemente vendere il mio ristorante perché io ho capito dopo tanti anni che ci lavoro dentro che a me questo lavoro non mi piace. Anche questa è una direzione ed è una direzione assolutamente legittima e che puoi tranquillamente perseguire. Eccetera 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 le direzioni sono davvero infinite sono personali sono introspettive. Ti ho fatto questi esempi per farti capire che ci sono tante possibilità che puoi scegliere e che puoi appunto cercare di raggiungere. Lo avrai capito quando hai una direzione hai una risposta a qualsiasi domanda che riguardi il tuo business e il tuo ristorante. A qualsiasi domanda. al contrario quando non hai una direzione beh in quel caso sei in balia delle onde o peggio sei in balia delle direzioni degli altri. Troppo spesso mi confronto con imprenditori di successo non lo vedi ma sto facendo il segno delle virgolette con le mani che almeno all'apparenza hanno tutto una bella casa una bella macchina tanti locali che fatturano ma queste persone lo sanno e lo vedo non sono felici non sono appagate non sono soddisfatte. non hanno tempo per sé non hanno tempo per la propria famiglia non fanno la differenza per il mondo e non si sentono parte di qualcosa di più grande. Altre volte invece mi confronto con dei ristoratori che non riescono a mettere un piede fuori dal proprio locale da anni non hanno mai visto i propri figli se non dormienti a letto quando rincasano la sera tardi non hanno mai un giorno libero sono sempre dietro all'ultima urgenza al personale ai fornitori sono praticamente sull'orlo di una crisi di nervi sono al limite del burnout e lo sanno perfettamente. Tutte queste situazioni sono sintomi evidenti e frequenti perché capitano davvero spesso certamente di una mancata strategia di marketing certo ma soprattutto in questi casi manca una direzione ed è per questo che queste persone rincorrono il sogno di qualcun altro occorrono velocissimo senza meta dicendo loro stessi che prima o dopo si fermeranno e si godranno la vita ma quel momento guarda un po' non arriva mai loro si agitano si affrettano si affannano sono sempre in ritardo e in rincorsa sono davvero delle banderuola al vento perché vanno dove vanno gli altri non pensano non riflettono semplicemente corrono si svegliano la mattina e corrono spesso prendono decisioni che allontanano sia loro che tutti quelli che li circondano dai loro veri obiettivi dai loro profondi direzioni vorrei semplicemente dire loro ragazzi fermatevi fermatevi un minuto smettete di correre come dei pazzi smettete di agitarvi come dei gatti dove state correndo dove state andando dove state andando io sogno ristoratori fermi e inambovibili come montagne non mobili e insicuri come polveri io sogno ristoratori felici appagati soddisfatti sereni tranquilli e non ristoratori spaventati arrabbiati ansiosi diffidenti cupi o tristi quando c'è una direzione quando c'è una direzione chiara e cristallina quando c'è una direzione scritta nella pietra le nubi si diradano e spunta il sole perché sai dove stai andando sai qual è il tuo obiettivo di lungo termine e non c'è nessuno che ti potrà impedire di arrivare lì dove vuoi arrivare il tuo compito principale come titolare come imprenditore una volta che hai scelto la tua direzione deve essere quello di custode della direzione te la ridico perché è importante deve essere quello di custode della tradizione tu devi proteggerla questa direzione devi prenderti cura di lei come se fosse un figlio come se fosse una figlia e deve diventare la tua sana ossessione insomma non avrai altro dio al di fuori della tua direzione significa che ogni azione che viene intrapresa all'interno del tuo locale da te o dai tuoi collaboratori deve essere passata attraverso un setaccio che è composto da un'altra domanda che è questa questa azione questo compito questo obiettivo intermedio mi sta aiutando a dirigermi dove voglio andare mi sta aiutando a raggiungere la mia direzione mi sta aiutando ad avvicinarmi a quello che è il mio obiettivo di lungo periodo questa è l'unica domanda che devi farti quando compi delle azioni all'interno della tua attività questa domanda ovviamente presuppone il fatto che tu abbia scelto una direzione se non l'hai scelta caro mio o cara mia hai un grande problema voglio ricordarti tre cose la prima è che non sei tu al servizio del tuo ristorante ogni tanto qualcuno deve dirtelo ma è esattamente il contrario è lui è il tuo ristorante è il tuo locale o i tuoi locali che sono il tuo servizio il tuo ristorante è una nave che ti permette di raggiungere l'altra sponda del fiume una volta che sei arrivato a destinazione brucia la nave sei arrivato riposati e goditela la seconda cosa che voglio ricordarti è che devi promettere a te stesso che manterrai la direzione tracciata costi quel che costi e la terza cosa che voglio ricordarti è che dovrai condividere la tua direzione con la tua squadra con i tuoi familiari con i tuoi collaboratori con i tuoi soci con le persone che ti sono vicine perché se queste persone non condividono la tua direzione beh sai già che cosa fare infine voglio darti un consiglio la tua direzione deve essere una scelta di non ritorno deve essere una scelta irrevocabile una decisione dalla quale non si può tornare indietro una volta che scegli la tua direzione l'hai scelta per sempre hai fatto un patto con te con te stesso con le persone che ti stanno vicine e non puoi tradire né la loro né la tua fiducia visto che questa puntata è un po' filosofeggiante mi passerai una citazione un po' colta infatti voglio citarti Umberto Eco non in uno dei suoi libri più da semiologo diciamo così ma in un romanzo che si chiama l'isola del giorno dopo è un passaggio un po' lunghetto e se hai piacere puoi schipparlo senza problemi è un po' lunghetto ma che leggo e rileggo ogni volta che devo prendere una decisione senza punto di non ritorno la citazione è questa dopo aver calcolato con rigore queste possibilità si era detto che era indegno di un gentiluomo abbandonarsi a calcoli così meschini come un borghese che computasse la possibilità che aveva giocando a dati con il suo abaro peculio ovvero si era detto un calcolo sia da fare ma che sia sublime sia sublime la posta che cosa giocava in quella scommessa? la vita ma la sua vita se egli non fosse mai riuscito a lasciare la nave e non era molto specie ora che la solitudine si sarebbe aggiunta alla coscienza di aver perduto lei per sempre che cosa invece guadagnava se superava la prova? tutto la gioia di rivederla e salvarla in ogni caso di morire su di lei morta coprendone il corpo in una sindone di baci è vero la scommessa non era alla pari c'erano più possibilità di perire nel tentativo che non di raggiungere la terra ma anche in quel caso l'idea era vantaggiosa come se gli avessero letto che aveva mille possibilità di perdere una misera somma contro una sola di guadagnare un immenso tesoro chi non avrebbe accettato? il protagonista di questa storia ha accettato la scommessa ha accettato di scommettere appunto tutto per una sola possibilità di guadagnare un immenso tesoro che in questo caso era abbandonare appunto l'isola del giorno dopo per trovare la sua lei e vivere felici e contenti non ti svelo come va a finire la storia perché se ai piacere ti leggi l'isola del giorno dopo quello che posso dirti è che lui questa scommessa il protagonista di questa storia non solo l'ha accettata ma l'ha anche vinta ecco io consiglio a te di fare altrettanto che la vita è una soltanto e tu hai il dovere di viverla pieno facendo ciò che pare a te raggiungendo i tuoi veri obiettivi e non quelli che ti impone qualcun altro sia esso la società un tuo parente o un qualche guru particolarmente arrogante su internet tu devi semplicemente vivere la tua vita felice e soddisfatto di fare ciò che fai raggiungendo appunto la tua direzione e non quella di qualcun altro prima dei saluti ti ricordo due cose come al solito la prima è di condividere il radio ristorazione con i tuoi colleghi con i tuoi collaboratori e con chiunque possa usufruirne ti ringrazieranno come avrai capito questo podcast porta bene e fa raggiungere tanti bei risultati a chi lo applica numero due se hai voglia di seguirci fuori dal podcast hai due modi il primo è di cercarci su facebook Ristoratore Top il gruppo siamo noi siamo più di 11.000 e non vediamo l'ora di parlare anche con te oppure vai sul nostro sito www.ristoratoretop.com noi ci sentiamo nella prossima puntata che sarà anche l'ultima almeno per questa stagione e appunto non perdala perché ci darò tante anticipazioni sui prossimi passi che compieremo insieme Radio Ristorazione non finisce qua perché il successo di questo podcast è stato davvero grande mi fa molto piacere e quindi ci sentiremo presto nelle prossime puntate per vedere come andremo a concludere o a continuare questa bella avventura insieme come al solito dai cazzo ci sentiamo presto Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Radio Ristorazione Grazie.